Un inizio stagione difficilissimo, l'intervento chirurgico al piede, tanti mesi di stop. Lorenzo Ranelli è tornato da Giovane Promessa al settore giovanile del Frosinone a una certezza per il centrocampo aquilano e domenica scorsa è arrivato anche il primo gol. E' iniziata con qualche difficoltà perché a settembre mi sono operato. Sono stati quattro mesi lunghi e difficili, però con l'aiuto della mia famiglia e con l'aiuto anche del Mise e di Maurizio Ianni che mi hanno aspettato li ho superati e adesso mi sento bene e voglio dare una mano a questo gruppo fantastico. Un'azione difficile da spiegare perché comunque far gol è sempre qualcosa di emozionante. Poi dopo un'infortunio, dopo quattro mesi lontano dal campo è veramente bello. Questa squadra, penso l'ha detto anche il Mise, il nostro obiettivo sono i play-off. Non è facile perché secondo me è più difficile rispetto all'anno scorso raggiungere i play-off, però noi lotteremo ogni domenica come abbiamo sempre fatto e come penso si vede. Per cui l'obiettivo è il play-off, fare bella figura, far divertire le persone che vengono allo stadio. Penso che ci stiamo riuscendo.